Oscar Gatto è stata un po' difficoltosa la fine di stagione soprattutto per capire dove andare a parare come squadra alla fine ti sei accasato Gianni Savio spera in un riscatto con te spera e lo spero anch'io la stagione è stata non come me l'aspettavo purtroppo sono partito sempre titubante poi non arrivava quel colpo di pedale che magari mi aspettavo per fortuna dopo ho iniziato a girare al Giro d'Austria e lì per fortuna insomma la stagione l'ho un po' sistemata comunque dai adesso è ora di pensare comunque al 2015 le rispettative sono buone, squadra anche quindi tutti i presupposti sono buoni possiamo fare una battuta di cattiveria insomma la compagnia con Pippo Pozzato voi due più che giri di pedalata a volte sembravano giri di ombre diciamoli che sia ecco questa è cattiva come battuta anche perché vabbè con Pippo c'ho un'ottima amicizia ma io adesso con moglie e bimbo diciamo che faccio la mia vita i giri di sprizzo sono un po' ridotti no 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 infatti sono un po' ridotti e diciamo che da quando sono ridotti i risultati sono mancati quindi non si sa mai che magari dai speriamo speriamo insomma di di sistemare questa situazione insomma un po' non dico strana però ti vogliamo vincente ecco dai li assumiamo così l'ho scargato vincente bisogna grazie